La provincia di Teramo apre le porte della propria sala consigliare di via Milli al Consiglio Comunale di Teramo. E' questa la proposta avanzata dal presidente Camillo D'Angelo che ha espresso la sua prontezza ad accogliere l'ente comunale, soprattutto in considerazione del fatto che il Parco della Scienza, dove da anni si svolge il Consiglio, potrebbe diventare un nuovo centro per gli eventi culturali che potrebbero essere gestiti anche dalla società Primo Riccitelli. Il Consiglio Comunale di Teramo potrebbe così fare ritorno in centro, dopo che il terremoto ha reso inaccessibile il municipio di Piazza Orsini, spostando l'attività consigliare e diversi uffici al Parco della Scienza. Nello spirito di collaborazione, considerato che la città è in difficoltà, perché i danni del sisma purtroppo hanno segnato molto questo territorio e non solo, abbiamo dato disponibilità della sala consigliare. Il problema rimane sia anche per il Comune ma anche per la provincia, perché anche la nostra polifunzionale è bloccata dall'inerzia della Regione che ancora non ottiene il certificato di prevenzione incendi. Inoltre abbiamo proposto alla Regione Abruzzo di acquisire, incomodato o in acquisto, gli spazi del Delfico per realizzare un nuovo auditorium e una palestra che potrà servire sia il Delfico e il Convitto ma anche le scuole di Mitrofe. Con la chiusura per i prossimi anni del Cineteatro Comunale fatta per avviare i lavori di riqualificazione, la questione degli spazi per spettacoli e manifestazioni sta diventando una problematica complessa da gestire. È necessario ripensare tutta la città, ripensare gli spazi e anche acquisire aree private se necessario per dare alla città lo spazio che merita per la cultura, per lo spettacolo e per tutte le altre manifestazioni sportive. Altri spazi quindi non ce ne sono in città? Al momento purtroppo no, non ci sono spazi, stiamo pensando anche eventuali altre aree da riqualificare ma al momento nel breve termine non abbiamo soluzioni percorribili. Hai chiesto un incontro al sindaco d'Alberto? Sì, abbiamo interlocuito molto, quindi siamo in strata collaborazione, la provincia è a disposizione del comune per risolvere i problemi della città di Teramo. Grazie. Grazie.